Un infarto ha strappato via l'affetto dei suoi cari e della sua diocesi il vescovo di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi, Monsignor Luigi Martella, che nella tarda serata di ieri, lunedì 6 luglio, è deceduto. Una notizia che ha lasciato tutti disarmati, i familiari di Don Gino, il vicario, Don Mimmo Amato, tutto il clero diocesano e le comunità cittadine della diocesi. Don Gino, come tutti lo chiamavano, ottavo di dieci figli, era nato a depressa, frazione di Tricase, il 9 marzo del 48, dai genitori Cosimo Rocco e Vita Maria Rizzello. Entrato da ragazzo nel seminario della sua diocesi, dopo il biegno filosofico-teologico nel seminario di Treviso, ha proseguito gli studi di teologia nel Pontificio Seminario Interregionale di Posillipo, ricevendo l'ordinazione presbiterale il 10 aprile. Ha conseguito la licenza in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e il dottorato in Teologia Morale presso l'Accademia Alfonsiniana a Roma. Dal 79 all'86 è stato rettore del santuario Madonna del Rosario a Castro e dall'86 al 94 primo parroco della stessa chiesa eretta a parrocchia. Assistente diocesano dell'ufficio Famiglia di Azione Cattolica dall'80 al 94 aveva anche ricoperto il ruolo di docente di religione e di etica professionale. Dal 94 era stato chiamato a svolgere l'ufficio di direttore spirituale nel Pontificio Seminario Regionale di Molfetta e presso l'Istituto Teologico Pugliese era docente di teologia morale fondamentale. Responsabile dell'ufficio Formazione dell'Istituto Pastorale Pugliese, consulente etico regionale della Federazione dei Consultori di Ispirazione Cristiana. Il 10 marzo del 2001 viene ordinato vescovo a Molfetta, scelse come motto episcopale Propter Nomen Sum, per amore del suo nome, ispirandosi a Cristo Buon Pastore. Io sono il Buon Pastore, il Buon Pastore dalla vita per le pecore, ha detto Don Mimmo Amato nella messa celebrata questa mattina in Episcopio davanti alla Salma. E Don Gino questo è stato un Buon Pastore che ha dato la vita per noi. Assistente del Delegato per i Seminari, il 20 aprile 2008, dopo aver nominato postulatore Agostino Superbo e vice postulatore Domenico Amato e Silvia Correale, emmano a un editto per introdurre la causa diocesana di beatificazione e canonizzazione di Antonio Bello, suo predecessore sulla Cattedra Molfettese. Proprio nel 2008 Don Gino era stato colpito da un infarto durante una visita pastorale a Molfetta e fu sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico di angioplastica a Bari. Questo però non gli ha mai impedito di essere vicino alla sua diocesi, di vivere e ricambiare l'affetto della sua gente, facendosi prossimo con tutti senza risparmiarsi mai, incontrando le persone della sua comunità in ogni parrocchia e in ogni periferia urbana e sociale. Ma non solo, durante la Pasqua con piacere aveva celebrato la Santa Messa Crismale nella Cattedrale di Andria, al posto del Vescovo Monsignor Calabro affaticato dalla malattia. Importante e preziosa inoltre è la collaborazione tra la sua diocesi, quella di Monsignor Martella, e Teledeon, che ci ha portato a seguire con attenzione gli eventi organizzati dalla diocesi, ad effettuare le dirette del Triduo Pasquale dalla Cattedrale di Molfetta in occasione della Settimana Santa nel 2014, oltre ad interviste di approfondimento che ci ha concesso in più di un'occasione, accogliendoci in arcivescovado sempre con gioia. Vescovo delegato in Puglia per le comunicazioni sociali, spesso ha ribadito anche ai nostri microfoni l'importanza della comunicazione, che trova proprio nella famiglia il suo grembo naturale. Di qui la necessità di sviluppare una nuova attenzione sul tema della comunicazione, integrandola con gli altri ambiti della pastorale. Un sorriso e uno sguardo, quello di Monsignor Martella, aperto e sincero, che accoglievano chiunque andasse a trovarlo o lo incontrasse per strada, fermandosi a salutare tutti anche solo per una semplice stretta di mano, e non è mai mancato il suo sorriso anche nei momenti più difficili della sua vita. Oggi, nella Cattedrale di Molfetta, è stata aperta al pubblico la Camera Ardente. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 16.30, nella Cattedrale di Molfetta, preseduti da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari Bitonto e presidente della Conferenza Episcopale Pugliese. Tutti noi di Teledeon, ricordandolo con affetto, ci uniamo al dolore della sua comunità, dei suoi familiari e delle persone che gli hanno voluto bene, e vogliamo ricordarlo proprio con quel sorriso e con quello sguardo sorridente con cui tanto conforto ha dato a quelli che lo incontravano. E per l'ultima volta vogliamo salutarlo così. Ciao Don Gino.